Ciao a tutti, sono Don Pietro Parzani, un sacerdote diocesano di Brescia, Fidei Donum in Mozambico, nella parrocchia di San José di Mapignani. Colgo l'occasione per ringraziarvi di cuore per l'aiuto che mi avete fatto in questi anni. A nome del cuore amico, siamo riusciti all'inizio a costruire due pozzi a mano nella comunità di Mangarell A e di Niafudo, aiutando parecchie famiglie che facevano grandi distanze per recuperare l'acqua. Sono contentissimi, davvero una grande gioia. Loro dicevano che non lo sapevano ma avevano l'acqua sotto i piedi e dovevano fare chilometri per andare a prendere. Un altro pozzo abbiamo realizzato, inaugurato da poco, nella scuola di Kerkir B. I nomi che forse voi non dicono niente, ma ci sono tante persone anche lì. Sono più di 400 famiglie con la scuola presente. Questo pozzo è molto profondo, 100 metri di profondità, quindi non era possibile farlo con una pompa a mano. Abbiamo realizzato allora una struttura con i pannelli solari. Questo ha permesso anche di canalizzare l'acqua per la comunità cristiana che abbiamo e dare quindi più servizi e più aiuti anche a questa popolazione. Grazie, grazie di cuore. Accolgo l'occasione di farvi gli auguri di un santo Natale, di buone feste e che il Signore vi benedica. Grazie. Visita il nostro sito cuoreamico.org o contattaci allo 030 37 57 396